I carabinieri della compagnia di Venaria hanno arrestato due persone a Busano per detenzione di droga, uso spaccio e di armi illegali. I militari hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione di proprietà di un 25enne. Nella casa, in cui rappresenta anche il complice, 30enne, sono stati rinvenuti all'interno di alcune scatole 50 grammi di marijuana, alcuni grammi di crack e 95 capsule di anfetamina. Il tutto già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio, nonché materiale necessario per la preparazione della droga e il suo confezionamento. Nella disponibilità del 25enne è stata trovata anche una pistola calibro 22 con 26 proiettili, che è risultata essere stata rubata al nonno del giovane. L'arma è stata inviata al RIS di Parma per verificare il suo eventuale utilizzo in episodi criminali. Grazie a tutti.